O è quello di dire che non ho messo in alla gare, o è quello che mi mamma danno, a piano, andiamo a leggere che tu puoi venire. A piano, andiamo a leggere che tu puoi venire A piano, andiamo a leggere che tu puoi venire A piano, andiamo a leggere che tu puoi venire A piano, andiamo a leggere che tu puoi venire A piano, andiamo a leggere che tu puoi venire A piano, andiamo a leggere che tu puoi venire A piano, andiamo a leggere Grazie a tutti 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 Grazie a tutti